Benvenuti al video dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo oggi di Paolo Fox del 13 luglio 2023. Oggi parleremo delle previsioni astrologiche per la giornata di oggi basate sul segno zodiacale. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, lavoro e fortuna per ogni segno zodiacale. L'oroscopo del segno ariete. Oggi bandirai le tue preoccupazioni per sfruttare al meglio la vita il più possibile. Stai inconsciamente spingendo troppo forte. La tua vita lavorativa si muove a un ritmo veloce, stai accumulando successo dopo successo e otterrai le risposte che ti aspetti. È sempre l'entusiasmo emotivo che porta la passione nella sfera della tua vita amorosa. Questo è il momento di essere spensierati e non prendere la vita troppo sul serio. Goditi al massimo, non c'è tempo da perdere. Se ti arrendi alla prima battuta d'arresto, non potrai mai sapere se la strada che avevi intrapreso era la più appropriata. Insiste un po', ragionevolmente. Non trascurare la tua salute, quando meno te lo aspetti può darti un bello spavento. Nella tua vita familiare sorgono problemi che al momento non sei in grado di risolvere. Qualcuno a cui tieni molto ti chiederà qualcosa che troverai impossibile da concedere. Cerca di trovare una via di mezzo tra ciò che ti chiede e ciò che puoi dare. Amore, le relazioni potrebbero richiedere un po' di lavoro extra. Dedica del tempo a comunicare apertamente con il tuo partner. Carriera, un progetto lavorativo potrebbe richiedere la tua attenzione. Sii preparato a fare uno sforzo extra per raggiungere i tuoi obiettivi. L'oroscopo del segno toro. Oh, toro. La tua personalità è vibrante come non mai, e il tuo equilibrio interiore è al suo massimo. In amore, sembri essere sull'onda giusta, tieni stretta questa fortuna. Nonostante ciò, attenzione alla salute, un po' di cura in più non guasta mai. Le finanze? Sembra che stiano andando a gonfie vele. Tuttavia, la tua abilità di comunicazione potrebbe aver bisogno di un piccolo rafforzamento e l'avventurosità di beh, prova ad uscire dalla tua comfort zone ogni tanto. Non tutte le tue idee sono grandiose e insistere per svilupparle sopra ogni altra cosa può portare a una piccola crisi economica. Studia attentamente il caso. Ci vuole tempo per ottenere qualcosa che desideri da molto tempo, ma non preoccuparti perché alla fine ne varrà la pena. Condividi quello che hai con gli altri. Cerca di restituire i favori il più rapidamente possibile o ti guadagnerai la reputazione di essere sconsiderato. La condivisione è il segreto delle grandi amicizie. Amore, le relazioni potrebbero richiedere un po' di lavoro extra. Dedica del tempo a comunicare apertamente con il tuo partner. Carriera, un progetto lavorativo potrebbe richiedere la tua attenzione. Sii preparato a fare uno sforzo extra per raggiungere i tuoi obiettivi. L'oroscopo del segno gemelli. La chiarezza delle idee sarà oggi la base di un grande traguardo professionale che potrebbe essere abortito solo se la tua ambizione fosse troppo esagerata. Il fatto che le cose non vadano come vorresti non è una scusa per essere sempre di cattivo umore. Devi anche convivere con situazioni negative. La ragione deve prevalere sul cuore in un problema di tintura economica. Se vuoi regalare i soldi, fallo, ma non illuderti, perché non li riavrai indietro. Ehi gemelli, sappi che la tua personalità sta brillando e le tue abilità sociali sono al top. La fortuna è dalla tua parte in amore, ma attento alle finanze. O, sembra sia un periodo buono per l'avventura. Le sfide di carriera possono apparire grandi, ma con la tua creatività e saggezza non ci sarà ostacolo insormontabile. L'equilibrio interno potrebbe essere messo alla prova, cerca il tuo lato spirituale. Amore, la comunicazione sarà fondamentale per il successo delle tue relazioni. Sì aperto e sincero con i tuoi cari. Carriera, potresti essere coinvolto in un progetto di gruppo. Metti in mostra le tue abilità di collaborazione e otterrai risultati positivi. L'oroscopo del segno cancro. Se rimani fedele a te stesso e alle tue idee, avrai il miglior stato d'animo. Non ascoltare nessuno. L'equilibrio è più alla tua portata e, se ti prendi un momento prima di reagire, tutto funzionerà. Sarai brillante nel conciliare quelle dure restrizioni che funzionano l'una contro l'altra, specialmente oggi. Dovrai lavorare sulla tua capacità di mantenere le relazioni ed essere più aperto all'ignoto. Fallo senza rimpianti. Mostrerai di cosa sei capace con più determinazione e fiducia in te stesso. Ehi, cancro. Sei un tipo a tutto tondo, la tua personalità è affascinante e la qualità delle tue interazioni sociali è invidiabile. Tuttavia, lascia che te lo dica, l'amore non sembra essere dalla tua parte al momento. Ma ei, il tuo spirito avventuroso può portarti dove vuoi. Ricorda solo di mantenere il tuo equilibrio interno per gestire le sfide della carriera o della salute. A proposito di finanze, il be, potrebbe andare meglio ma sei un cancro saggio, troverai una via d'uscita. L'oroscopo del segno leone. Oggi sarete assorbiti da grandi progetti, dibattiti importanti, incontri che non potete evitare e assorbirete doveri e responsabilità. In ogni caso, assicurati di non trascurare la tua vita amorosa, i tuoi amici o la tua famiglia. Se non sei disponibile per i tuoi cari, potresti rischiare di perderli di vista. Non avrai problemi a convincere gli altri a lavorare con te. La tua mente oberata di lavoro ti spinge a eccessi sensuali di ogni tipo. I vostri poteri di discernimento implorano di essere ridotti. Non prendere grandi decisioni che coinvolgono i tuoi sentimenti. Ehi, leone! Tu sei un fulmine di personalità e questo ti rende irresistibile. Sei flessibile come un giunco nel vento, ma attento a non perderti troppo in quest'arte dell'adattabilità. La tua qualità è al top, ed è proprio ciò che fa girare le teste intorno a te. Per quanto riguarda l'amore, beh, diciamo solo che Cupido ha una freccia speciale riservata per te. Tuttavia, dovresti fare attenzione alla tua carriera e alle finanze, potrebbero essere delle mine terrestri sul tuo cammino d'oro. Non preoccuparti della salute, hai energia da vendere. L'oroscopo del segno vergine. Non dovresti essere influenzato dal trambusto intorno a te. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi. Oggi la vostra energia sarà la più invidiata. Non puoi essere ovunque contemporaneamente, quindi concentrati sui compiti a portata di mano. Ti sentirai sovraccarico di cose da fare, ma non avrai voglia di delegare. La ricerca personale di anime sta per porre fine alla tua vita amorosa, se non stai attento. Ehi Vergine, sembra che la tua personalità risplenda più forte del solito. La tua compatibilità con gli altri e alle stelle e la tua adattabilità ti permette di navigare facilmente tra diverse situazioni. Ma attento alla salute, potrebbe esserci qualche problema. Il tuo amore ha un valore inestimabile e brilla come una stella nel cielo notturno. Nonostante alcune battute d'arresto nella carriera, il tuo spirito avventuroso non mancherà di portarti nuove opportunità. Le tue finanze possono oscillare quindi sii prudente. Ricorda, la saggezza è il miglior investimento. L'oroscopo del segno bilancia La determinazione individuale sarà il tonico della giornata. Sarà tempo di prendere decisioni definitive e attenersi a loro per avere un futuro soddisfacente. Qualcosa di nuovo arriva sulla tua strada. Riceverai buone notizie che si adattano perfettamente ai tuoi piani. Devi lavorare per tonificare i tuoi muscoli, ti aiuterà ad armonizzare le tue energie. Le nuvole si stanno addensando e ti senti stonata con il tuo partner. Le discussioni saranno tese all'inizio, ma si ammorbidiranno da sole se metti da parte le tue paure. Ehi bilancia, le stelle indicano un periodo di alti e bassi. La tua personalità ti sfiderà, ma wow, la tua compatibilità con gli altri è al top. Nonostante qualche difficoltà in amore e carriera, sei pieno di energia ed emotività. Sorprendentemente, la tua salute pare robusta come non mai. Le tue finanze potrebbero essere un po' instabili, occhio a non fare acquisti impulsivi. Tieni d'occhio il tuo equilibrio interiore, i tuoi livelli di saggezza sono attraverso il tetto. Ricorda, sebbene possa sembrare turbolento ora, tutte queste esperienze contribuiranno alla crescita della tua anima. L'oroscopo del segno scorpione Continuate con l'entusiasmo di ieri e i vostri orizzonti si allargeranno. Qualcuno vicino a te può darti buone notizie. Un po' di pazienza e un sogno vicino al cuore potrebbero diventare realtà. Oggi dovresti iniziare a pensare ai cambiamenti fondamentali che speri davvero di apportare nella tua vita lavorativa. Riceverai preziosi consigli per la tua vita di coppia. Agisci sui tuoi impulsi e non fermarti, ti guideranno nella giusta direzione. Ehi scorpione, la tua personalità sta brillando come mai prima d'ora, prendendo le tue abilità sociali quasi magnetiche. La tua carriera è in un periodo di crescita esponenziale e i tuoi livelli di energia sono alle stelle. Ma attento alla salute. Non trascurarla nel mezzo del tuo successo. Anche se la fortuna sembra essersi presa una pausa dal darti una mano, il tuo equilibrio interiore è forte e ti aiuterà a navigare con saggezza attraverso qualsiasi tempesta finanziaria. Amore, la tua intuizione sarà fondamentale per le relazioni amorose. Ascolta il tuo istinto e segui il percorso che ti sembra più autentico. Carriera, potresti ricevere un'opportunità interessante nel lavoro. Valuta attentamente le opzioni e fai una scelta consapevole. L'oroscopo del segno sagittario. Oggi può essere difficile mantenere la pace a casa perché quando si ha a che fare con la famiglia, si hanno sentimenti contrastanti. Potresti reagire al caos e all'attività a casa. Ascolta ciò che qualcun altro ha da dire per ottenere una visione equilibrata. La tua naturale tendenza a coccolarti ti renderà più forte. Fai attenzione a non distrarti e non parlare in anticipo. La tua sfera emotiva è più calma e la tenerezza è la strada giusta. Coloro i cui cuori sono in gioco farebbero bene a non aver paura di avere nuovi incontri. Amico sagittario, la tua personalità brilla come non mai e le tue abilità sociali sono al top. La tua energia è invidiabile ma attento alla salute che rischia di essere un po' carente. In amore, ci saranno alti e bassi, ma grazie all'elevato senso dell'avventura affronterai ogni sfida con coraggio. Guarda bene alle finanze, potrebbero esserci delle sorprese. Ricorda sempre di bilanciare il lato spirituale con quello pratico per mantenere un equilibrio interiore. L'oroscopo del segno capricorno Alcune questioni sono importanti per te e oggi intendi parlarne. Non hai più intenzione di aspettare o fingere che non esistano. Almeno, se parli, gli altri sapranno dove ti trovi. Se vuoi davvero fare giustizia, non esagerare. Mantieni il tuo umore. Mostra la tua flessibilità e le tue qualità proattive per sfruttare al meglio le opportunità che ti si presentano sul lavoro. La tua inclinazione naturale è quella di migliorare il tuo io interiore e semplificare la tua vita quotidiana. Se riesci ad avere più tempo libero dovresti usarlo con il tuo partner. La magia funziona anche a casa. Ehi capricorno, guarda che fortuna e amore. Sei proprio nell'onda giusta, buddy. La tua qualità è allo zenith. Risplendi sulla carriera e le finanze come il sole all'alba. A proposito di salute, beh, prenditi cura di te un po', ok? Non dimenticare la creatività, lascia fluire l'ispirazione intrinseca al tuo segno. L'oroscopo del segno acquario. Oggi il vostro più grande potere risiederà nell'esercizio della diplomazia. Pertanto, sarà una buona idea ammorbidire un po' la tua posizione a volte radicale o provocatoria. È meglio difendere le tue proposte essendo tolleranti verso gli altri. Funzionerà meglio che dare ordini. Il tuo senso di responsabilità potrebbe essere troppo intenso. Permetti a una parte di te di eliminare le preoccupazioni, senza sentirsi in colpa. Il successo nella tua vita amorosa è alla tua portata, osa darti l'opportunità di raggiungerlo. Puoi convincere e affascinare con le tue parole. Oh, acquario. Sei un fascio di energia e avventura, pronto a conquistare il mondo con la tua personalità vibrante. La fortuna è dalla tua parte recentemente ed è probabile che tu abbia successo nella carriera. Però attenzione alle tue finanze, non lasciare che le spese impulsive ti mettano nei guai. Nonostante ciò, l'amore sembra promettere molto per te. Tieni duro in salute, potrebbero esserci delle sfide da affrontare. L'oroscopo del segno pesci Oggi le reazioni spontanee potrebbero essere una possibilità, poiché tensioni palpabili ti faranno sentire particolarmente sensibile. Questo sarà di buon auspicio per le tue attività, ma potrebbe causare problemi se sei inattivo. In ogni caso, fai attenzione a non cedere a improvvisi impulsi emotivi o finanziari. Aspetta un giorno prima di investire in qualcosa di importante. Non limitarti a insistere per rimanere fermo, sarebbe meglio cercare di scendere a compromessi piuttosto che rischiare di causare un'esplosione. Sei abbastanza intelligente da essere in grado di ottenere ciò che vuoi e rendere felice il tuo partner. O, pesci Sembra che la tua personalità stia brillando come mai prima d'ora, e questo potrebbe portare a una certa tensione con chi ti sta intorno. Fortunatamente, la tua innata abilità di adattamento ti aiuta a gestire queste situazioni. In amore e carriera sembra ci siano un po' di alti e bassi, ma la tua saggezza interna sarà il tuo faro nel buio. Nonostante qualche problema di salute minore, il tuo equilibrio interiore rimane forte. Ricorda però, le tue finanze richiedono attenzione.